Grazie a tutti. Con il nostro libro L'uomo e il suo destino eterno, che è conoscito ormai molto bene. Però questa sera, dunque noi quest'anno vogliamo dimostrare, siamo impegnati a dimostrare, una realtà che qualche decennio fa nessuno metteva in discussione, cioè che esiste un unico Salvatore che è Gesù Cristo e che Gesù Cristo ci ha veramente salvato. Ci ha salvato da che cosa? Ci ha salvato dalla condizione umana nella quale nasciamo, che è una condizione umana di male e di morte. Cioè l'uomo nasce, diciamo che bel bambino, sì certo se lo vedi nella luce del battesimo è un bel bambino, ma se non lo vedi nella luce di Dio che è un bel bambino lì è già destinato a morire. Nasciamo in una condizione, la condizione umana è segnata dal male e con la parola male si intende qualcosa di molto grosso, cioè non soltanto il raffreddore, ma il male è il male morale innanzitutto, c'è la propensione che c'è di noi a fare il male, la cattiveria, la spinta al male. E sappiamo che la cattiveria spinta al male, se non è contrastata, fin dall'inizio diventa qualcosa di tremendo. Infatti nessun animale, neanche il coccodrillo, ha mai fatto quello che fanno gli uomini. Perché gli animali al massimo mangiano un uomo quando hanno fame, capito, vedi il coccodrillo, ma gli uomini fanno molto di peggio con gli altri uomini. Quindi c'è questo male che è tremendo che è in noi, che si chiama malvagità, che si chiama cattiveria, e poi c'è il male, la sofferenza fisica, la sofferenza morale, e poi c'è la morte. La morte che è un male tremendo perché con la morte, con la morte veramente uno esce da questo mondo. Una cosa che noi facevamo fatica a capire è che con la morte, la morte è veramente una cosa definitiva, cioè con la morte uno esce da questo mondo, esce. Magari è ancora presente in questo mondo perché se è in cielo nella luce di Dio, vede, prega, ottiene grazie, però salvo che ci sia una divina permissione o ci sia un comando di Dio, per esempio la Madonna nel messaggio che ha fatto l'altro mese a Miriana ha detto il padre mi ha mandato, cioè il padre l'ha mandata qui sulla terra, viene qui sulla terra, perché se no con la morte uno esce fuori da questo mondo e se non ha la fede cosa vuol dire? Vuol dire che uno sparisce, sparisce. Quindi questa è la condizione umana nella quale tutti sono nati, compresi i ricconi, compresi i potenti, capito? Non ce n'è uno, la morte è la più democratica, è l'unica democratica che ci sia al mondo, la malattia, la vecchiaia, la morte, questa sì che è democrazia, capito? Nella quale tutti gli uomini sono uguali. Da questa situazione esistenziale, nella quale nasciamo, nella quale tutti gli uomini di tutti i tempi sono nati, eccetto Gesù Cristo, eccetto la Madonna, che non sono nati dal male, dalla cattiveria, da questa situazione, Fiori Cari, da quando, da Adamo e Eva in poi, fino ad oggi, nessuno ci ha salvati. Salvo Gesù Cristo. E chi si salva dalla cattiveria, secondo voi? Ma possono fare i fili in provetta. Dico io, voglio trovare quel professore della clinica di Los Angeles, che ha detto che lì entro un anno ti fai i fili su ordinazione perfetti. Dico, professore me ne faccia uno e lo lasci crescere, che poi quello gli taglia la testa. Hai capito? Perché questa è la realtà. Altro che perfetti, uno può lasciare il perfetto e poi combinarmi tutti i colori. ecco, dunque, l'uomo non riesce a salvare se stesso, non può salvare se stesso, né dalla cattiveria, né dalla morte. Potrà, tutt'al più, non so io, con patria di raffreddore, con gli antibiotici potrà, con le cellule staminali potrà, però al di là, por gira e rigira, è come rimandare la sentenza. Per carità, la vita è raddoppiata, la vita è raddoppiata negli ultimi cent'anni, ma non è che siamo più felici, eh? Cioè, non è che oggi, perché la vita è raddoppiata rispetto a un secolo fa, noi siamo più felici. I roparli direbbero che invece di piangere per 40 anni, piangevano per 80 anni. Allora, non ci salviamo, noi non ci salviamo da soli, non ci salviamo. E d'altra parte anche i supposti salvatori dell'umanità, che sono poi i grandi leader politici, religiosi, eccetera, erano uomini come noi, erano uomini come noi, anzi, peggio di noi. Specialmente i leader politici erano peggio di noi, perché per diventare quelli che sono diventati, hanno fatto macelli, macelli, macelli. Capito? Allora, ma anche i leader religiosi, insomma, i grandi leader religiosi erano persone come sottoscritto, anzi, certamente non buoni come noi cristiani, perché non c'era nella luce e nella grazia come noi, però erano persone che cercavano di salvarsi. Il Buddha viveva in un grande palazzo, con una bellissima moglie, con un figlio ricchissimo, ma era infelice. E ha andato a cercare la felicità nel distacco delle cose dal mondo, ma era infelice. Ha andato a cercare una felicità, ha cercato una strada, ha cercato una via per salvarsi. Capito? Ma anche lui si sentiva infelice. Allora, l'unica persona al mondo che è diversa è Gesù Cristo. Ma guardate che Gesù Cristo è diverso, non perché diciamo noi che è diverso, perché ci crediamo, ma è veramente apparso diverso. Cioè, si è manifestato agli altri come una persona radicalmente diversa da quelle che sono gli uomini. E di fatti questo lo si vede nei Vangeli. E cioè, perché Cristo ha avuto quel fascino che ha avuto? Perché lui, insomma, lui era diverso da noi, ma non nel senso che lui avvesse un'umanità, aveva la nostra medesima umanità, aveva un corpo e un'anima, ma lui era diverso da noi, perché non era inguaiato come noi. Non era malato, non è nato malato, perché in lui non c'era la cattiveria, era santo, santo era. Perché in lui non c'era l'infelicità, ma c'era la gioia. Perché in lui non c'era l'oscurità, la ricerca della verità, ma era la verità. Capito? Perché in lui, una delle cose, adesso queste cose non ci fa caldo, poi gli esegeti, dico, ci scampi i libri dai teologi degli esegeti, no? Adesso non è per dire, mi dicono, dunque dicono che il padre libro ce l'ha con i teologi, noi non è che ce l'ha con i teologi, perché anche il Papa è un grande teologo. Io lo rispetto. Però, ieri sera non riuscivo a dormire, allora cosa ho fatto? siccome un nostro ascoltatore mi ha dato un dischetto, mi ha dato un dischetto, e me lo sono visto. Era un film muto del 1928, di Theodore Dreyer, intitolato La passione di Jane d'Arc, la passione di Santo Giovanni d'Arco. La passione di Santo Giovanni d'Arco, muto, è un film muto. E era tutto da godere. Vedevi, vedevi dunque, i dignitari, il vescovo Cochon, che peraltro era anche rettore dell'Università di Parigi, venduto agli inglesi, che per soldi ha condannato un innocente al rogo. E tutti i teologi, capito, puntanti di... Con questa poveretta, insomma, alla fine, cioè io ho visto lì, ho visto veramente a che punto di oscurità mentale si può arrivare, di sbandamento mentale si può arrivare, di fronte a un innocente che poi la Chiesa ha elevato l'uno degli altari. Ma in lei c'era la sapienza, in lei c'era la verità, in lei c'era la santità, non nell'apparato che c'era lì, in quel punto lì, in quel momento lì, venduto, proprio venduto, a una potenza straniera che era gli inglesi. Mi ha fatto molta impressione questa pellicola, perché veramente ho visto come Dio molte volte sia presente negli umili, nei piccoli, nei semplici, mentre in quelli che dovrebbe esserci la dottrina non c'è, c'è l'oscurità, c'è lo sbandamento. Dunque, ritorniamo al punto chiave, al punto che ci interessa. Gesù Cristo è apparso diverso da tutti, per la sua santità, per la sua bontà, per la sua sapienza. Una delle cose che per esempio a me ha colpito, in Gesù Cristo, è siccome tutti noi uomini abbiamo i sensi di colpa, perfino i santi avevano i sensi di colpa. Difatti, ha sempre fatto l'impressione, grazie a Ubirù, che fino al termine della sua vita era tormentata dagli scrupoli. Tant'è vero che lei amava sentire le prediche sulla Divina Misericordia. E le prediche la sentiva più volentieri. Ed è morta dicendo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice. E ripeteva, prega per me, povera peccatrice. Io siccome anche io sono scrupoloso, no? Mi ricordo che anche io sono scrupoloso un po'. E mi sono seduto anche su questo, nell'infermeria dove è morta Bernadette. Ero solo, perché avevo chiesto il permesso, alla sua si mi faceva entrare, era le tre pomeriggio, sono entrato nell'infermeria dove è morta Santa Bernadette Subirù, nel suo convento, no? L'Ianever, e c'era questa poltrona rossa, e c'era il caminetto, dove lei è morta sulla poltrona rossa, che io mi sono sdreato anche sulla poltrona rossa. E mi sono messo a dire, Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povero peccatore. Perché, perché anche io ho questa, dico, come comparirò davanti al tribunale di Dio? Ma ho visto che, grazie a Dio, mi sono consolato, che però anche anime santissime avevano gli scrupoli. Ora mi sono detto, malcomune, mezzo gaudio, via. Dunque, però la cosa che mi ha colpito è che Gesù Cristo, oh, Gesù Cristo non chiede mai perdono, eh. Non so se avete fatto caso. Quando stava per ispirare, qualsiasi di noi che stava per ispirare, cosa fa? Chiede perdono, sì o no? È certo. Ma lui non ha chiesto perdono, ha perdonato. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non ho detto, padre, perdona le frustate che ho dato a questa gente. Non ho detto niente. in Gesù Cristo non c'è mai la richiesta di perdono. Perché? Perché lui è la santità. Perché lui è il santo. È il santo. Era senza peccato. Senza peccato. Non era come gli altri che erano tutti peccatori, compreso i grandi leader dell'umanità, ballo di quelli religiosi. E così, Gesù Cristo era, non era mai, avete mai, avete mai, avete mai colto nei Vangeli Gesù Cristo che ha dubbi di fede, secondo voi. Gli avranno i profeti i dubbi di fede. Gli avrà Giovanni Battista che dice, sei tu che dobbiamo accogliere, dobbiamo cercarne un altro. Gesù Cristo, anzi, dice, io sono la luce, io sono la verità, io sono la vita. Gesù Cristo non chiede perdono per i peccati, ma rimette i peccati. è l'unica persona che è radicalmente diversa da noi, perché? Perché lui non è uno che cerca la salvezza. Gesù Cristo non è uno che cerca la salvezza come sono tutti gli uomini, Gesù Cristo è uno che dà la salvezza, dà la salvezza, salva, Gesù Cristo salva, si presenta come il salvatore e d'altra parte ci ha salvato con tutta la sua vita e ci ha salvato da questi due pungiglioni che sono il peccato e la morte. Ci ha salvato dal peccato, soprattutto dalla remissione dei peccati, ci ha fatto la grazia santificante, ci ha fatto il potere di fare il bene, il potere di diventare santi, il potere di diventare buoni ci ha dato con la sua grazia. Capito? E quindi ha distrutto il peccato, l'ha distrutto nel suo cuore con il suo amore, con la sua obbedienza, con la sua umiltà, ha distrutto il male, ha distrutto il peccato, nel suo cuore l'ha distrutto e il suo cuore è una fonte di santità per tutti noi, per tutti gli uomini e nel medesimo tempo Gesù Cristo ha distrutto la morte, risorgendo a vita immortale, per cui noi che viviamo in Lui non moriamo, noi non moriamo, cioè noi che siamo in grazia di Dio nel momento della morte ci risvegliamo nelle braccia di Gesù Cristo, noi che siamo in grazia di Dio nel momento, nell'istante stesso della morte, noi entriamo in paradiso, e entriamo, questo non dice il concilio, tanti concili, ma sintetizzati nel numero 1022 del Catechismo della Chiesa Cattolica, immediatamente, nel momento della morte veniamo giudicati e immediatamente inviati in paradiso all'inferno purgatorio, se noi viviamo in Cristo non c'è neanche la morte, non c'è la morte, ci risvegliamo nella luce della gioia del paradiso, quindi mentre gli altri piangono, noi ridiamo, questa è la realtà, mentre, mentre diciamo poveretto, poveretto, e quello fa poveracci, poveracci, ma è così, è così, dunque, questa è una cosa evidente, ma quello che vorrei adesso collocare bene questa che è il messaggio forte, cioè veramente Cristo ci ha salvati, ci ha salvati, ma di questa realtà qua, cioè che Cristo ci ha salvati, noi non ne siamo più convinti, noi non ne siamo più convinti, ma dico, come dico noi, dico, prima di tutto i popoli che hanno ricevuto la fede, in le nazioni di antica cristianità, non ne sono più convinti che Gesù Cristo ci ha salvati, anzi, ritengo che il cristianesimo è una malattia mentale, c'è in atto la demolizione di Gesù Cristo come persona, gli hanno fibbiato le amanti, gli hanno fibbiato le mogli, gli hanno fibbiato i figli, capito, adesso chissà cosa diranno che non ha pagato le tasse, poi l'hanno iscritto al partito comunista, dicendo che il fondatore, poi, insomma, di tutti, l'hanno, lavorano i fianchi continuamente, adesso ci dirà che Panella dirà che è il suo parente stretto, eccetera, ma sono, in tutti i modi cercano di addomesticarselo o di demolirlo o di banalizzarlo o di distruggerlo e naturalmente fanno così anche con i suoi seguaci. Allora, c'è in Occidente, come diceva bene Giovanni Paolo II, è nato da tre secoli a questa parte, dalla rivestione francese in poi, il rifiuto di Cristo come salvatore. Capito? È nato il rifiuto di Cristo come salvatore e chi ci salva? E ci salveranno i Napoleoni, ci salveranno gli Stani, ci salveranno i Litre, ci salveranno... Chi ci salva? Capito? Ecco, l'uomo salva se stesso, adesso l'ultima è chi ci salverà la scienza. Una simile scemenza viene creduta. Cioè, pensate, di fatti il Repubblico un giorno sì, un giorno notte dice che c'è la pillola dell'impresa, di mortalità, che comunque con le cene scemenali, quelle embrionali, cioè che riusciranno a fare chissà che cosa. E poi, insomma, in poche parole, in poche parole, fortunati quelli che vivranno. Perché l'uomo farà, l'uomo farà con la scienza. L'ultima è che la scienza salva. Gesù Cristo era un fanatico, era un illuso, i cristiani meglio eliminare quanto prima. Capito? dunque, la scienza ci salva, ma scherziamo, la scienza ci ha preparato la tomba. Cosa ha detto la Madonna? Ma la Madonna non dice mai una frase fuori posto. Ha detto nel 1947, 47, e cioè praticamente due anni dopo Hiroshima e Nagasaki, quando incominciava la corsa degli armamenti, la Madonna ha detto Bruno Coronacchiola nell'apparizione lì a Roma, ha detto la scienza tradirà Dio. La scienza ha tradito Dio perché ha dato in mano a Satana gli strumenti per distruggere il mondo che si chiamano armi di distruzione di massa e la scienza sta dando in mano a Satana le armi per rovinare l'opera della creazione. Capito? Per rovinare l'opera della creazione. Per cui mi diceva sapete no il futuro come sarà quando la popolazione dei nati in provetta perché ormai i figli sono in sordinazione perfetti non sono perfetti i nati in provetta capito? Quando questi qui popoleranno il mondo e vedranno ancora i rimasugli i superstiti le coppie che fanno i figli ancora nel modo tradizionale e diranno eccoli qui trogloditi capito? Dunque la scienza tradirà Dio la scienza prepara questa è la verità questa è una verità che i più grandi le più grandi menti attuali dell'umanità sottoscrivono come per esempio René Girard come Charles Lewis sono i due più grandi antropologi viventi dicono che siamo arrivati a capolinea siamo arrivati all'abolizione dell'uomo l'apocalisse è stato davanti a noi cioè siamo davanti alla distruzione dell'uomo questo è quello che ci aspetta cioè in poche parole sono qui a spiegarvi quello che ha detto la Madonna nel suo ultimo messaggio del 2 marzo pochi giorni fa perché qui le parole sono quelle che contano la Madonna non dice una parola che sia fuori posto dice vi siete persi figli miei mai aveva detto una parola così così forte in 27 anni vi siete persi figli miei questo è detto all'occidente questo è detto alle nazioni di antica cristianità vi siete persi figli miei perché perché nelle nazioni di antica cristianità ormai ormai il rifiuto di Cristo il rifiuto di Cristo che può essere militante esplicito voluto ma può essere anche diciamo così di fatto cioè ma l'infischio non mi interessa più l'indifferenza capito le straneità in tutte le faccende affaccendati allora questo rifiuto di Cristo è diventato una realtà questo è il dramma e questo è il dramma che stiamo vivendo oggi noi viviamo l'ora veramente di Satana noi viviamo l'ora di Satana perché viviamo l'ora di Satana perché ci siamo perché come ha detto la Madonna nel messaggio precedente ha detto perché siamo sulla via sbagliata siete sulla via sbagliata vi siete persi perché siamo sulla via sbagliata perché ci siamo persi perché perché nella nostra società che è una società nata dal cristianesimo noi stiamo noi stiamo dando lo sfratto a Gesù Cristo noi stiamo dando lo sfratto a Gesù Cristo ed è un fenomeno di massa questo che riguarda non solo quelli che sono fuori dalla chiesa che sono anche se battetati comunque sono militanti contro la chiesa eccetera eccetera ma riguarda anche i cristiani comuni che sono fatti sedurre dal falsario e per i quali Gesù Cristo conta poco o niente allora siccome io da vengo accusato di tanto in tanto di essere apocalittico di essere apocalittico che parlo sempre di apocalissi capito perfino una volta un prelato mi dice no ma padre ma lei di che ci parla sempre di apocalissi di scusi ma lei non legge il Vangelo dico ma no ma guardi vado a vedere i cinque discorsi le sezioni dei Vangeli che riguardano i discorsi apocalittici di Gesù Cristo dico ma lei ha letto l'apocalisse ma queste cose ma queste cose ma queste cose appartengono alla fede dunque no no dico io vorrei sapere se bisogna aspettare di essere cucinati dico scusa eh io non aspetto io per prima di usci fuori da io se prima di tutto nel fuoco non ci vuole entrare ma se entro esco subito non aspetto di essere cucinato dico vorrei sapere per qual motivo io mi devo trovare l'apocalisse addosso senza che me ne accorga Gesù Cristo mi dice siate pronti siate pronti allora vediamo vediamo cosa dice la Madonna in questi ultimi mesi guardate che guardate che la Madonna quando parla sa quello che dice coglie sempre nel profondo vede ciò che noi non vediamo ciò che nessun osservatore riesce a vedere legge anche nei cuori coglie le situazioni facciamo dunque cominciamo dall'ultimo messaggio quello del 2 marzo che è particolarmente drammatico e dice cari figli sono qui in mezzo a voi guardo nei vostri cuori feriti e inquieti dove la parola inquieto non sono bene in italiano bisogna dire senza pace perché è loro proprio esattamente nei vostri cuori feriti e senza pace vi siete persi figli miei non so se a voi mi è capitato a me è capitato quasi tutti i giorni perché sono distratto quando vado in giro con la macchina mi perdo mi perdo perdo la strada e mi perdo ecco quando si perde la strada ci si perde e non si sa più da che parte andare vi siete persi figli miei le vostre ferite del peccato diventano sempre più grandi e sempre più vi allontanano dall'autentica verità cercate la speranza e la consolazione nei posti sbagliati invece io vi offro la sincera devozione che si nutre di amore di sacrificio e di verità io vi do mio figlio dunque ma noi ci dice che siamo persi che le nostre ferite diventano sempre più grandi che ci siamo allontanati dall'autentica verità il 2 febbraio la Madonna fa riferimento alla pazienza del Padre Celeste dicendo che siccome il suo amore è infinito la sua pazienza è infinita cari figli cari figli oggi con cuore materno desidero ricordarvi di avvertirvi dell'immenso amore di Dio e della pazienza che scaturisce da esso il vostro Padre mi manda e aspetta aspetti i vostri cuori aperti pronti per le sue opere aspetti i vostri cuori uniti nell'amore cristiano e nella misericordia nello spirito di mio figlio non perdete tempo figli perché non ne siete padroni cioè come dire state attenti che il tempo sta per scadere il tempo della pazienza di Dio poi il 2 gennaio la Madonna dice eravamo nel tempo pasquale natalizio dice cari figli mentre la grande grazia celeste si spande su di voi il vostro cuore rimane duro e senza risposta poi passiamo indietro 25 dicembre quello dato a Maria cari figli correte lavorate raccogliete ma senza benedizione voi non pregate poi dice che senza Gesù Cristo non l'avete futuro messaggio del 25 ottobre questo è il più tremendo di tutti cari figli vi invito tutti in modo speciale a pregare per le mie intenzioni affinché attraverso le vostre preghiere si fermi il piano di Satana su questa terra qual è il piano di Satana su questa terra è trasformare questa terra in un inferno di disperazione di peccato e di morte portare alla distruzione e portarci tutti all'inferno questo è il piano di Satana chiaro? instaurare il suo regno cioè il piano di Satana è instaurare l'inferno sulla terra e arriverà il momento con l'anticristo che Satana farà questo dunque ma non riuscirà del tutto perché interverrà Dio anche il momento dunque affinché attraverso le vostre preghiere si fermi il piano di Satana su questa terra che ogni giorno più lontana da Dio e mette se stesso al posto di Dio e distrugge tutto ciò che è bello e buono nell'animo di ognuno di voi perciò cari figli armatevi con la preghiera e il digiuno eccetera eccetera dunque questi sono i messaggi della Regia della Pace dal mese di ottobre in avanti che stanno comunque a indicare una situazione che a noi sfugge perché noi non ce l'accorgiamo ma che è una situazione di accelerazione spirituale di degrado spirituale di perdita di fede capito e la Madonna segnala un allontanamento dei cuori da Dio segnala la Madonna la capacità che ha il falsario il seduttore di impadronirsi dei cuori perché quando la Madonna dice Satana vuole mettere se stesso al posto di Dio cosa vuol dire vuol dire che Satana prende il posto di Dio nei nostri cuori Satana prende il posto di Dio nei nostri cuori e mette se stesso al posto di Dio e com'è che Satana prende il posto di Dio nei nostri cuori come ha detto la Madonna nell'ultimo messaggio con le vostre ferite del peccato diventano sempre più grandi cioè noi allontanandoci dalla vera fede allontanandoci da Cristo e commettendo il male in questo modo Satana prende il possesso nei nostri cuori e mette se stesso al posto di Dio nei nostri cuori e distrugge tutto ciò che c'è di buono e di bello nei nostri cuori allora questa situazione e questo è il punto su cui io voglio insistere perché faccio fatica a farlo capire faccio fatica a farlo capire perché molte volte mi tocca confrontarmi anche con i giornalisti i quali però quando tu fai discorsi moralisti cioè io parlo con un giornalista mi capita a volte e dico ci stiamo allontanando da Dio perciò ma loro i giornalisti dicono eh vabbè ma cosa vuoi che metto su Giacchi stiamo allontanando da Dio no e dico guardate che la conseguenza la conseguenza dell'allontanamento da Dio è un titolo da prima pagina del giornale perché la conseguenza dell'allontanamento da Dio è che noi non abbiamo futuro che andiamo di corsa verso l'autodistruzione infatti a me ha fatto impressione che proprio il giorno in cui la Madonna ha fatto il messaggio a Vigliana dove dicevi siete persi figli miei ho letto i titoli di tutti i giornali compreso l'osservatore romano e l'avvenire tutti i titoli dicevano le borse crollano compreso l'osservatore romano le borse crollano le banche falliscono le borse crolla il primo titolo e la Madonna dice vi siete persi figli miei ma la Madonna cosa ha detto a Natale ha detto cari figli vi invito tutti in modo speciale no a Natale eccolo qua cari figli correte lavorate raccogliete ma senza benedizione a voglia a voglia a voglia cioè quello che io voglio dire la catastrofe spirituale è sempre la radice della catastrofe materiale la guerra fra gli uomini è sempre il risultato della guerra che gli uomini fanno a Dio quando gli uomini fanno la guerra di Gesù Cristo ai zatti da Satana arriva il momento che si distruggono fra di loro ma questo la Madonna l'aveva già detto chiaramente nel messaggio di Fatima nel segreto di Fatima ha detto se il mondo non si convertirà avrete una guerra peggiore di quella che fu chiamata la grande guerra le inutili strage e ha detto anche i segni ha detto sotto il pontificato di più un decimo che non c'era ancora più un decimo c'era per l'evento c'era per l'evento il quindicesimo ha detto sotto il pontificato di più un decimo e ha detto pure che avremmo visto un segno nel cielo e fu la grande aurora boreale secondo son Lucia nel 1938 e nel 39 incomincia la guerra con l'invasione della Polonia da parte della Germania dunque vedete che le catastrofi spirituali stanno alla radice degli eventi e la Madonna ci ha detto ancora una volta che se non torniamo a Gesù Cristo non c'è futuro non c'è futuro dunque vi dicevo una giurista mi chiede mi chiede stamattina ma come spiegare la divina misericordia in una trasmissione televisiva che la gente possa capire io dico per me bisogna fare i discorsi veri perché i discorsi veri perché il popolo non è beota cioè la gente non è che vede solo il grande fratello se si fa un discorso vero la gente lo capisce perché se ci sono due milioni di persone al giorno che ascoltano Radio Maria vuol dire che la gente capisce certi discorsi ovvio no? se si fanno discorsi seri la gente li capisce allora il discorso è questo sulla divina misericordia perché il tempo perché è il tempo della divina misericordia questo perché è il tempo della divina misericordia è il tempo della divina misericordia perché noi uomini che come diceva Giovanni Paolo II l'umanità è al bivio della vita e della morte lo diceva nel 2000 ma quando l'ha detto eravamo ancora in una situazione migliore di adesso la Madonna disse allora proprio all'inizio del giubileo che Satana era sciolto dalle catene e da allora si è scatenato sta cercando di portare il mondo lontano da Dio sta cercando di diventare lui il padrone del mondo capito? allora perché il tempo della divina misericordia perché l'umanità era davanti a un bivio la via della vita e la via della morte ma a mio parere ha già preso la via della morte cioè io divido la verità io fino a qualche mese fa dicevo sempre e lo dicevo anche nelle mie trasmissioni perfino nel libro che ho scritto recentemente L'ora di Satana non l'avevo ancora elaborato questa idea che l'ho elaborata proprio adesso perché quel libro lì l'abbiamo messo a punto 5-6 mesi fa dopo però è venuto il messaggio di ottobre che mi ha fatto molto pensare dunque io prima dicevo l'umanità si trova al bivio come ha detto Giovanni Parò II la sua famosa consacrazione del millennio alla Madonna la via della vita è la via della morte può trasformare la terra in un giardino come in un ammasso di macerie eccetera eccetera ma sai come se noi fossimo al bivio la Madonna si mette davanti al bivio della morte e ci dice no questa è l'altra la strada adesso però io ho cambiato un po' parere ho cambiato parere perché la Madonna eccolo qua nel messaggio del 25 gennaio la Madonna ha detto io sono con voi così a lungo perché siete sulla strada sbagliata cioè non siamo più davanti al bivio della vita e della morte abbiamo preso la strada sbagliata di fatti la Madonna cosa dice adesso vi siete persi abbiamo preso la strada sbagliata e ci siamo persi qual è la strada sbagliata è la strada dell'incredulità prima di tutto cioè non crediamo più che Gesù Cristo è il salvatore tant'è vero che la Madonna finisce tutti i suoi messaggi compreso l'ultimo dicendo io vi offro la sincera devozione che si nuti di amore e di sacrificio e di verità io vi do mio figlio capito cioè noi siamo sulla strada sbagliata perché abbiamo liquidato Gesù Cristo come il nostro salvatore capito l'abbiamo liquidato allora ecco perché siamo sulla strada sbagliata siamo sulla strada che ci porta alla perdizione di fatti cosa dice la Madonna se non c'è futuro su questa strada non c'è futuro per voi questa è la realtà di oggi cari amici facciamoci illusioni questa è la realtà di oggi però vi dico questo non per deprimervi perché io sono convinto di questo dunque la misericordia in cosa consiste? in questo attenzione dov'è la misericordia noi nonostante i 27 anni che la Madonna è qui nonostante 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 che abbiamo avuto i papi che abbiamo avuto la luce che abbiamo avuto le grazie che abbiamo avuto nonostante tutto questo noi abbiamo sbandato abbiamo preso la via del male abbiamo fatto quello che è sempre fatto il popolo di Israele tale e quale capito appena Mosè se ne andò sul monte costruiremo il vitello d'oro questa è la situazione ma ma allora allora la misericordia sapete in cosa consiste? che nonostante che abbiamo preso la strada sbagliata la Madonna ci salva lo stesso questa è il succo la misericordia è questa meriteremo un sacco di legnate meriteremo un falò universale ma Dio non se lo può permettere la Madonna è qui come regina è qui per vincere è qui per e quindi e quindi e quindi ci salva dunque oggi pensavo pensavo secondo me devo scrivere un libro sui 10 segreti prossimamente allora sto guzzando sto guzzando l'intelletto dunque perché dunque mi sono chiesto perché nonostante che abbiamo preso la strada sbagliata nonostante che siamo sulla via dell'incredulità dell'immoralità perché la Madonna ci salverà lo stesso e in questa consiste la sua misericordia saremo salvi lo stesso se no è inutile che costruisca la sede di Radio Maria scusate avete pazienza questo è un segno di ottimismo no perché si salva lo stesso ho pensato a questo dunque pensiamo a Sodoma e Gomorra Sodoma e Gomorra sono due realtà concrete non crevete a quegli autori biblici che dicono che sono no no Sodoma e Gomorra ci sono voi andate andate a visitare Gerusalemme a Mar Morto vedrete le montagne la lontane bruciate dallo zolfo eccetera dove sono sepolte Sodoma e Gomorra dunque non è che siano cose campate per aria Sodoma e Gomorra sono state distrutte giusto? perché sono state distrutte? perché perché Abramo pregando Dio di salvarle non riuscì a esibire a Dio neanche cinque persone che fossero giuste hanno fatto una trattativa almeno cinquanta almeno trenta almeno venti ma poi alla fine ce ne erano neanche cinque ce ne erano neanche cinque per cui Sodoma e Gomorra sono state distrutte allora invece stavolta stavolta è diversa la questione perché cinque ci sono cinque ci sono sono quali che ha risposto alla chiamata lo dice la Madonna pensate eh perché la Madonna è veramente straordinaria non toglie mai la speranza non toglie mai la speranza guardate cosa dice nel messaggio famoso del 25 gennaio dove dice io sono con voi così a lungo perché siete sulla strada sbagliata soltanto con il mio aiuto figliore aprirete gli occhi però ha detto anche e questo non bisogna mai dimenticarlo perché ci consola tanto e ci dà tanta motivazione ad andare avanti dice ci sono tanti non cinque tanti che vivendo i miei messaggi comprendono che sono sulla strada della santità cioè quella giusta e verso l'eternità ecco perché dico eh in che cosa consiste la divina misericordia che nonostante che il mondo sia sulla strada sbagliata tuttavia Dio farà misericordia e al mondo lo salverà perché ci sono ancora tanti che sono sulla strada della santità e sul cammino verso l'eternità e questo dunque e questa considerazione è molto importante perché se no ascoltando i messaggi di questi ultimi tempi noi abbiamo l'impressione quasi di dire ma qui cosa dico qui cosa dico non c'è non c'è possibilità di salvezza uno dice capito allora la madonna dà una descrizione della deriva attuale del mondo cioè molti mi dicono ah la deriva è successo questo no per esempio le cretinate no ah Mirian l'ora più l'apparizione del capannone ma chi se ne frega dico ma io non so dico io fossi io la madonna del capannone non c'è mai andato dunque comunque dunque uno mi scrive Mirian non ha più l'apparizione del capannone che sia arrivato il tempo dei deci segreti ragazzi ma scherziamo dunque io mi sono sempre chiesto ma perché non va alla croce blu o non va sulla montagna dico come fa Ivan che andrà in un capannone ma non lo so dunque lasciamo che facciamo le topolino nel capannone dunque ecco dico così per dire che i capannoni o non capannoni non c'entrano ecco allora quello che volevo dire dunque è che il tempo dei deci segreti non è che bisogna fare gli indovini cioè a me colpisce le persone che aggustano il cervello per fare l'indovino di che cosa ma ragazzi la madonna ci mette in un messaggio che noi dobbiamo guardare i segni dei tempi dobbiamo guardare la realtà attuale alla luce della fede capire i segni dei tempi capire il momento nel quale viviamo e qual è il momento nel quale viviamo il momento nel quale viviamo è questo che è l'ora di satana e l'ora di maria contemporaneamente cioè dobbiamo essere consapevoli che viviamo in tempi in cui non c'è più concesso di perdere tempo siamo in tempi in cui dobbiamo uscire come dice la madonna dal sonno stanco dalle nostre anime questi sono tempi importanti non è mai accaduto che la madonna apparisse per 27 anni di seguito e che avesse un eco universale come oggi ad ogni messaggio che dice seguita da decine e decine di migliaia di sacerdoti da milioni di fedeli non è mai successo un evento così grande così importante perché perché siamo una svolta nella storia dell'umanità siamo nel momento in cui satana vuole distruggere il genere umano se non si capisce questo non abbiamo capito il momento nel quale viviamo né noi né i nostri figli cioè cerchiamo di capire che siamo in una svolta storica altro che crisi economica qui la crisi la crisi non è la crisi economica qui siamo e non è anche una crisi di civiltà qui è in forse l'avventura umana il mondo può finire per autodistruzione perché noi abbandoniamo Gesù Cristo vi dico a parte il fatto che ci sono le possibilità per trasformare il mondo in un inferno e lo vediamo satana scatenato l'ho mai visto scatenato da quando sono vivo come in questi ultimi tempi dove la massima crudeltà ti viene presentata come la massima misericordia c'è il cambiamento di tutti i significati delle parole la massima crudeltà cioè la massima crudeltà cioè ammazzare una persona ti viene presentata come la misericordia la massima la massima misericordia accudire per 17 anni una persona ti viene presentata come la massima crudeltà siamo di fronte alla falsificazione generale siamo il più grande attacco di satana alla stessa sopravvivenza del genere umano cioè ci allontaniamo dalla verità ci allontaniamo dalla luce ci allontaniamo da dio non accettiamo più Gesù Cristo come salvatore questa è la più grande crisi spirituale che aveva mai vissuto l'umanità ma questa crisi spirituale è tale da provocare la fine del mondo questa è la tesi che non riescono a capire ma questa è una tesi biblica di prima qualità perché l'avete Gesù Cristo se non vi convertirete perirete tutti la Madonna ce lo dice dolcemente perché è una mamma e ci dice che senza Gesù Cristo non abbiamo futuro Gesù Cristo ha detto se non vi convertirete perirete tutti noi siamo in questo punto della storia dell'umanità che se non ci convertiamo periamo tutti periamo cioè l'infedeltà a Dio non è che l'uomo che si emancipa da Dio che si emancipa da Gesù Cristo che rifiuta Gesù Cristo come suo salvatore questo uomo non è che comanda lui sulla terra diventa lo zimpero di Satana Satana comanda sulla terra o comanda Gesù Cristo comanda Satana sulla terra a me viene in mente mi viene in mente mi ricordo una volta che c'era un signore che aveva fallito con le sue aziende e voleva suicidarsi e voleva suicidarsi e gli ho detto ma scusa mi dico ma se ti suicidi vai all'inferno se poi sono diretto nel parlare ti vuoi suicidare e vai dritto all'inferno così dico oltre che perdere la casa perdi pure l'anima eternamente ah no ma io sa io fra Dio e Satana sono neutrale cioè metteva Dio a destra Satana a sinistra lui si metteva al centro dico ma sa io sono neutrale ma ragazzi qui non c'era o di qua o di là capito o siamo di Cristo o siamo in baria del demonio e allontanandosi da Dio dalla verità da Cristo dalla luce dalla pace dalla gioia noi noi mettiamo il mondo a rischio di futuro questa è la realtà nella quale viviamo guardate che la Madonna è ultimativa sapete è ultimativa anche il fatto che ci dice grazie perché avete risposto alla mia chiamata sapete perché lo dite io mi chiedo mi sono chiesto mille volte all'inizio non capivo poi a forza di non a forza di pensare però la Madonna mi ha fatto capire cioè perché la Madonna dando i messaggi alla parrocchia dice grazie perché avete accolto la mia chiamata è bello che non dice che quando si lamenta che non l'abbiamo ascoltata però dice sempre così nell'ultimo messaggio a Miriano non ha detto grazie però ma i messaggi a Miriano sono un po' diversi perché sono più rivolti ai non credenti sapete perché la Madonna dice grazie perché avete risposto alla mia chiamata perché se non rispondessimo alla sua chiamata sarebbe la fine del mondo se non ci fosse la risposta alla sua chiamata il mondo si autodistruggerebbe mancherebbero i giusti che salvano che impediscono che il mondo venga incenerito si auto incenerisca come Sodoma e Gomorra capito non siamo come a Fatima qui molti non capiscono è per quello che mi arrebbero tanto per esempio con quelli che dicono Fatima 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 un cavolo Fatima un cavolo cioè dicono Fatima Fatima come se Fatima la Madonna ha finito di parlare ma è diversa Fatima da Međugorje perché è diversa dov'è la diversità la radicale diversità che la Madonna Fatima ha detto se non vi corvertirete ci sarà un'altra guerra peggiore di questa capito giusto a Međugorje la Madonna ha detto se non vi corvertirete non c'è futuro perché un'altra guerra è la fine del mondo ecco la diversità ecco perché non può dire uno scioccamente stoltamente che la Madonna Fatima ha detto tutto la situazione radicalmente è diversa la Madonna Fatima ci ha detto se non vi corvertirete sarà la seconda guerra ma non la fine del mondo adesso dice se non vi corvertirete non c'è futuro non c'è futuro dunque ecco cioè capire il momento è fondamentale cioè oggi noi siamo è l'ora di Satana perché perché Satana sta cercando attraverso la seduzione la seduzione capito? la seduzione sta cercando di portare l'umanità all'ateismo al rifiuto di Cristo Maria è qui è qui per dire vi do Gesù Cristo diciamo questo è il punto chiave è come se fosse come dire non so come dire siamo arrivati alla decisione fondamentale che in base alla quale viene deciso il futuro dell'umanità d'altra parte in termini diversi la Madonna già sette anni fa a Natale aveva detto una cosa del genere ma in termini positivi aveva detto se accoglierete il re della pace questo secolo sarà un secolo di prosperità e di pace adesso dice senza Gesù Cristo non c'è futuro ma lo dice un'umanità che sta rifiutando Gesù Cristo e tuttavia la Madonna conta su quelli che rispondono alla sua chiamata per salvare il mondo questa è cari amici la situazione nella quale ci troviamo dove però come vedete dove vedete gli eventi spirituali sono quelli che contano cioè in poche parole come sarà il futuro dei nostri figli dipenderà da quello che decide il presidente degli Stati Uniti o che decide il ministro Tremonti o che decide l'Unione Europea quale sarà il futuro dei nostri figli il futuro dei nostri figli dipende se noi ci convertiamo o non ci convertiamo cioè gli eventi storici sono dettati dagli eventi spirituali il rifiuto di Cristo fa sì che Satana diventi perdone del mondo lo porti alla distruzione l'accoglienza di Gesù Cristo fa sì che fa sì che Cristo diventi re dei cuori e nel mondo ci sia la pace la gioia e la prosperità in questa luce noi comprendiamo come ognuno di noi ora comprendiamo perché la Madonna ha detto ognuno di voi è importante nel piano di Dio cioè la nostra personale conversione la nostra personale preghiera è decisiva per il futuro dell'umanità le forze in gioco sono queste sono Dio la sua grazia da una parte e sono Satana e la sua seduzione il suo odio dall'altra questi sono e questa è la visione vera della realtà noi siamo in mezzo diciamo così la terra è il luogo della grande battaglia questa battaglia c'è sempre stata ma oggi siamo a un punto decisivo siamo a un punto decisivo perché perché se noi non ci convertiamo faremo la fine di Sommo e Gomorra non la faremo è certo che non la faremo perché non siamo alla fine del mondo capito non siamo alla fine del mondo la fine del mondo attenzione la fine del mondo la provocheranno gli uomini la fine del mondo infatti giustamente il catechismo della chiesa catolica la colloca in un sovvertimento generale ma anche l'apocalisse dei cuori cioè gli uomini che si ribagliano a Dio provocano la fine del mondo noi stiamo facendo qualcosa del genere ma siccome siccome la Madonna riuscirà a vincere questa battaglia avremo un tempo di primavera un tempo di pace come lei ha detto però quello che vorrei che si capisse bene è il tono accorato dalla madre in questi ultimi mesi cioè con le lacrime agli occhi l'ultima l'ultima apparizione la Madonna era molto triste e non ha neanche salutato come al solito dicendo grazie la Madonna era molto triste però è che cogliessimo proprio perché siamo in quaresima questo aspetto accorato dalla madre che bussa i nostri cuori perché noi con il nostro amore con la nostra fedeltà con la nostra risposta colmiamo il vuoto che c'è cioè dobbiamo rispondere anche per chi non risponde dobbiamo amare anche per chi non ama dobbiamo pregare anche per chi non prega dobbiamo sacrificarsi anche per chi non si sacrifica dobbiamo essere fedeli anche per chi non dobbiamo essere fedeli anche per chi è infedele dobbiamo amare Gesù anche per chi lo odia dobbiamo riparare dobbiamo consolare Gesù Cristo in questa quaresima io dico anche la quaresima non so come dire il cammino verso la Pasqua deve essere un cammino dove noi cresciamo in amore verso Gesù perché i sacrifici le preghiere i fioretti i digiuni servono a niente se non ci aprono il cuore verso Gesù Cristo difendono come si dice esercizio esercizio di autocomplacimento da vito infatti Repubblica tre giorni fa una pazza dedicata come i cattolici fanno la quaresima compiaciuta rinunciano gli MSS fanno qua fanno là però in tutto l'articolo si era la parola conversione quella fa paura Repubblica la conversione capito dunque questo lo dico perché non so come dire la Madonna di che si lamenta in fondo non di che si lamenta perché non amiamo lei si lamenta perché abbiamo abbandonato Gesù Cristo perché non lo amiamo perché non lo corrispondiamo perché non lo accogliamo lei in ultima settimana dice io vi do la vera devozione vi do mio figlio allora quello che io vedo quello che io vedo nella cristianità vedo questo che pochi amano Gesù Cristo pochi amano Gesù Cristo allora allora come si fa ad amare Gesù Cristo per amare Gesù Cristo ci vuole una grazia speciale che va chiesta per amare Gesù Cristo ci vuole questa grazia chiedergli di farci capire quanto lui ci ama perché se noi capiamo quanto lui ci ama e quanto ci ama soprattutto quando è inchiodato sulla croce quanto ci ha amato durante la sua passione cioè io molte volte dico ma cavolo dico signore ma tu l'hai fatto per me questo cioè io dal mattino mi alzo e non ce l'ho di alzarmi mi fa male qua mi fa male là poi dico ma Gesù Cristo ma cosa non ha fatto per me dico è matto in croce e io ho paura adesso ho quasi fatica di alzarmi di fare questo dico per lui non so fare niente cioè noi dobbiamo chiedere la grazia la grazia di capire quanto ci ama qui ci vuole proprio una grazia cioè di capire il significato della croce perché se noi capiamo quanto Gesù Cristo ci ama quanto è grande il suo amore la sua amicizia che poi è l'amore di Dio per noi allora scusate come scusate se uno vi ama voi ve ne infischiate cioè se uno scusate io sto trassando la strada e una macchina mi sta venendo addosso arriva uno che mi salva all'improvviso io come minimo gli stringo la mano e lo ringrazio forse do anche 5 euro di bancia ma con Gesù Cristo non facciamo mica questo neanche questo facciamo non ci rendiamo conto non siamo consapevoli di quanto ci ama ma questo è il dramma guardate questo è il vero dramma spirituale oggi del mondo che il Salvatore è venuto che Dio si è fatto uomo che vive in mezzo a noi che ci ama che ci salva che ci dà quello che un Dio solo può dare e noi ce ne infischiamo questo è intollerabile che io al suo posto prenderei in mano il mancanello è intollerabile invece lui no misericordia misericordia capito misericordia e questa è la grandezza di Gesù Cristo perciò perciò dico arriviamo alla conclusione perché sarebbe inutile che io abbia fatto questa questa diciamo così messa a punto del momento storico in cui viviamo è il momento del massimo scatenamento satanico la satana può portarci via Dio può portarci via Cristo capito vuol diventare padrone dei nostri cuori delle nostre menti questo e la Madonna ci vuole riportare a Gesù Cristo se vince Satana è la fine del mondo capito il mondo perisce nel fuoco ma non avverrà questo avverrà che vince Gesù Cristo ma sarà attraverso una grande passione sapete una grande passione che sarà tanto più breve tanto più noi abbiamo creduto e amato Gesù Cristo allora noi in questo quadro che vi ho descritto dobbiamo chiedere al Signore la grazia in questo tempo di quaresima chiedere la grazia che ci faccia capire quanto lui ci ha amato fino a morire per noi sulla croce vi invito tutte le sere prima di andare a letto perché io so che queste cose qui da sole non bastano però se le facciamo magari la grazia vi Dio ci illumina mettetevi in ginocchio davanti alla croce leggete un brano della passione confessate davanti a Gesù i peccati per poi confessare davanti al sacerdote dite ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché il quadro Santa Croce è redento il mondo dite vi ringrazio Gesù che hai sofferto al mio posto e per me dite dolce cuore del mio Gesù fa che non ti ami sempre più prima di andare a letto non vergognatevi magari non lo faranno i sapienti non lo faranno i teologi ma voi semplici fatelo che lo faccio anch'io do 100.000 baci al crocifisso prima di andare a letto e a chi dovrei dare secondo voi a Raffaella Carrà perché alla fine il cristianesimo è questo grande rapporto di amore con Gesù e allora vi dico che in questa quaresima darete grande gioia alla Madonna le asciugherete le lacrime dagli occhi se Gesù Cristo si imprimerà nei nostri cuori grazie a tutti